ciao amici da simona vignali in questo video vi ho raccontato il dramma di quando ho iniziato a vedere i segni dell'invecchiamento sul mio viso dopo i 40 anni e in questo video ho spiegato quale soluzione ho trovato per cancellare i segni dell'invecchiamento sul mio viso andate a vederli se li avete persi perché sono utilissimi come dicevo ho creato una strategia efficace per ringiovanire è una sequenza di esercizi che tonificano i muscoli del viso che tengono la pelle tesa si lo hai già detto ma avrà un nome questa strategia si chiama metodo viso lift quando ho iniziato a fare gli esercizi ero felicissima perché funzionavano molto bene e giorno dopo giorno vedevo il viso più fresco e disteso già fin dal mattino che è il momento più critico ma ero anche preoccupata perché volevo semplificare tutto quello che avevo imparato e metterlo in un unico video come fare doveva essere semplice da capire e da mettere in pratica subito per tutti sì soprattutto per me bene amici ce l'ho fatta ho creato una sequenza unica che allena in modo armonico tutti i muscoli facciali che tendono la pelle spianano le rughe e fanno ritrovare l'ovale del viso l'ho fatto provare a una serie di clienti amiche parenti e tutte ma proprio tutte hanno ottenuto benefici la più eclatante come sempre stata la mamma perché era scettica ovviamente e diceva ma la mia età è impossibile risollevare le palpebre e invece non solo le ha risollevate ma adesso anche molte meno rughe intorno agli occhi e oltre a lei tutte le persone che hanno seguito il mio metodo hanno ottenuto lineamenti più definiti e tonificati ovale del viso ben disegnato contorno del viso senza cedimenti labbra più lisce senza codice barre riduzione delle pieghe tra il naso e la bocca espressione non più così triste e segnata sempre collo più liscio e non più avvizzito caspita che risultati ma la cosa che mi ha reso ancora più felice inaspettatamente è stata la loro reazione vedendosi ringiovanite nel viso hanno avuto più voglia di curare la loro salute chi si è messa a mangiare bene ed è dimagrita chi si è messa a fare esercizio fisico che ha iniziato a truccarsi un po di più a curare la pelle insomma il mio metodo viso lift ha messo in moto una serie di reazioni positive oltre alla semplice bellezza del viso perché il vero cambiamento quello che non mi sarei mai aspettata è stato un cambiamento interiore un cambiamento di atteggiamento che mi ha fatto capire che sentirsi ancora belli piacevoli e giovani nell'aspetto si collega a una sensazione più profonda di appagamento soddisfazione autostima voglia di fare felicità e come dico sempre ne abbiamo tutti tanto bisogno vero verissimo anche questo mi ha convinto a creare un vero e proprio video corso passo passo con il mio metodo viso lift per ringiovanire in modo naturale perché credo che sia qualcosa di meraviglioso per tutti cosa ne pensate se vi piace l'idea potrete seguire il video corso direttamente a casa senza fatica e senza stress sì un corso per ringiovanire mi piace proprio è un'unica sequenza già completa e impostata con il giusto ordine e dura poco più di 15 minuti così non ci sono scuse che non avete tempo potete farla al mattino come prima cosa o alla sera prima di dormire o insomma in qualsiasi momento del giorno gli esercizi sono facili da seguire lo sapete che io non amo le cose complicate e tendo a semplificare tutto per me stessa e per i miei followers e non serve neanche essere esperti di tecnologia e di computer basta avere un cellulare per seguire il video questo semplifica le cose temevo fosse una roba complicata è un video semplice con la sequenza ordinata degli esercizi da fare io ve li faccio vedere vi do i tempi vi guido e voi mi seguite anzi li facciamo insieme giorno dopo giorno voi vedrete la differenza e la vedranno anche gli altri lineamenti più tonici forme del viso più definite pelle liscia con meno rughe e aspetto più giovane e riposato indipendentemente dall'età potete avere 30 anni e fare prevenzione o 70 80 anni come la mia mamma il metodo viso lift funziona per tutti quelli che vogliono tonificare e ringiovanire il viso ognuno potrà ottenere la trasformazione che desidera ed essere sempre più felice di guardarsi allo specchio finalmente ora mi fermo qui sapete che non amo i video lunghi aspetta come facciamo per avere il corso nel prossimo video vi spiegherò come fare per accedere al video corso ma non solo vi farò proprio vedere come ero ridotta io prima di iniziare a usare il mio metodo viso lift con delle mie foto impietose che non ho mai fatto vedere a nessuno quindi tenetevi forte mi raccomando non perdetevi il prossimo video per niente al mondo nel frattempo sempre più trendy e sani e presto giovani e belli con il metodo di simona vignali naturalmente ciao